Ciao ragazzi, outfit velocissimo, sto per andare a scuola e vi faccio vedere come mi sono vestita oggi. Ho ai piedi questi stivaletti, non sono di marca, forse li avevo presi da Pittarello, un due annetti fa, con questo fiocchettino qui, che mi piace tantissimo, e poi ho su dei semplici collant neri, così, e sopra ho questa magliettina di Bershka, presa forse l'anno scorso, che è a tre quarti, e sopra ho messo su questa giacchettina, che è bellissima, non l'avevo ancora messa, dietro ha, per stringere, per non lasciarla larga, questo qua, che è molto comodo, tipo elastico, è corta ma è molto carina, e poi non ha le spalle dure, quindi scende abbastanza delicato, e l'avevo preso da Nabila, non so come si chiami, però l'avevo pagato in offerta al 50% 50 euro, quindi penso sia una marca conosciuta, ma io non la conosco, poi ho sulla mia collanina, ho su questi orecchini, trucco semplicissimo, ora non si vedrà dalla fotocamera, però ho messo semplicemente un rossetto della Kiko, mascara, blush della Essence e fondotinta, cioè anzi il correttore della Kiko, no, della Essence, perfetto, ce la posso fare, e ai polsi, che però ce l'ho da questa parte, ho questi braccialettini qua, che li avevo presi dalla Tully Whale tutti insieme, mi sembra, e non l'ha, l'outfit finisce qui, mi mando un bacio, ciao ragazze!